Perquisizioni ordinate dalla DDA di Firenze a Roma, Palermo, Rovigo, sono state passate al setaccio alcune abitazioni di parenti e personaggi non indagati, ma legati ai fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, boss dell'Andrangheta oggi in carcere a Terni in 41 bis, il carcere duro, condannati per l'omicidio di padre Pino Puglisi e per gli omicidi dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Si cerca un documento che lo stesso Giuseppe Graviano avrebbe affermato durante il processo Andrangheta stragista di aver dato a suo cugino Salvatore deceduto, un documento cercato dagli investigatori nella casa della moglie che attesterebbe il legame tra suo nonno e Silvio Berlusconi, un investimento da 20 miliardi di lire passati dalla famiglia Graviano al leader di Forza Italia indagato dalla procura di Firenze per le stragi di mafia del 93. La Toscana in quell'anno fu colpita dalla mafia il 27 maggio in via dei Georgofili, un'autobomba imbottita di esplosivo tolse la vita a 5 persone tra cui una bambina di 50 giorni. La DDA sta cercando di fare luce sui mandanti delle stragi, sempre lo stesso Giuseppe Graviano davanti ai magistrati avrebbe detto che per capire chi si è mosso negli anni 90 in quelle zone d'ombra è necessario capire chi ha fatto saltare la sua copertura, lui il boss di Cosa Nostra, arrestato a Milano subito dopo gli attentati nel 94, lui che pensava di avere una copertura tale da non poter essere toccato.